Mandi, questa è la ultima trasmissione di Udin Parfurlan, protagonisti, il Premi Friul e Musiche. Il Premio Friul è il premio più importante, perché riguarda le musiche furlane in assoluto, nel senso che in passi 30 anni provino a sbordare le nuove musiche furlane, e anche le nuove ha detto che le musiche furlane tentano di contaminarsi, e di partire in avanti i linguaggi musicali più moderni e più attuali. Perciò che siamo convinti che in Fin d'Icon per partire in davanti la nostra identità sia fondamentale, anche mi sclicciassi con la modernità, senza tutelare magari in un teatro folcloristico che di spesso non parte a noi. Ho sentito con Moira Berzot, una componente del giurio del Premio Friul. C'è molto gelato in generale che stanno? Ma ci sarebbe una grande edizione, una edizione vivarosa, sia dal punto di vista della partecipazione, sia dai generi musicali. Per quel che riguarda le partecipazioni, con le formule di quest'anno, venne a stare le quattro serate di Sparnicciadis a Torpo al Friul prima, e le finali di Usnot, Usnot vengono le possibilità di Sira e anche di vivere tanti gruppi di Ferenz. C'è generi musicali che saranno su una schiste serie sul palco? Ma un po' che tutti i generi da musica moderna rappresentano, venne a stare il punk, le musiche rock, in tal senso l'arc, o vengono un gruppo che sulle blues e che vengono dalla Tjerni, o vengono anche il folk, un po' riattualizzato. I generi sono un po' misclicati, in tutto l'arc costituzionale da nuove musiche che si ascoltano attorno a nuove musiche pop. Grazie! Per qualche riguardo tal specifico i generi musicali, e tassaradies che hai avuto il plazio di essere presente, hai veduto tanto rock, ma anche secondo me che sono diversi gruppi proprio feroz, pettati, non sono mancati anche cento autori di presa a un e vore, e gruppi che sono colorati, gruppi che hanno le cariche, le energie, e vi daranno anche un'altra parte di questo. E come ospite sfinae a Varenghi Carnikets, che invece sono un gruppo che non è un gruppo emergente, che è un gruppo che si è già affermato all'interno del territorio regionale, Manche e Fur, che presenteranno proprio un nuovo spettacolo, e dimostreranno a quel livello che può essere arrivare le musiche furlane, che è fatta in maniera seria, come che tentiamo di partire in davanti a noi. Allora Moira, qui che l'ha vinciuta il Premio Friuli? Altos da Badiglio e da famiglia Anna Svacanta-Dresda. Altos Badiglio e la famiglia Anna Svacanta-Dresda. Visitor, al preghi di aiuto i due previs. Al pregherà l'assessore di un alz, Gianni Torrenti. Altos Badiglio e la famiglia Anna Svacanta-Dresda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.